Musica Ciao a tutti e coci in questo nuovo video dove siamo sul GeniForum Per spiegarvi velocemente cosa è stato detto nel nuovo Inazuma Walker Che è stato trasmesso questo sabato cioè ieri Allora è stato l'Inazuma Walker volume numero 5 Adesso vedremo riassumendo velocemente cosa è stato mostrato Cosa hanno detto in breve diciamo Anche se l'ho detto tre volte però vabbè Allora il tema era non sono un dio Questo era il tema letteralmente Però c'è da dire che rispetto allo scorso Inazuma Walker È stato veramente mostrato molto di meno Allora subito eccovi l'Inazuma Outer Code episodio 4 Ne parleremo dopo però comunque lo potete già vedere Anche sul mio canale lo trovate Allora all'inizio han discusso sui ricordi delle serie Di cui hanno parlato i fan che hanno condiviso E il tema era Inazuma Eleven Haru Haru oppure cose che succedono sempre in Inazuma Eleven Quindi potete anche immaginarvelo voi Allora il tema del prossimo episodio di Inazuma Walker è stato fatto decidere dai fan Che cliccando sul sito ufficiale Andando sul sito ufficiale che trovate qui Il link Potevano scegliere Questo tema lo potevano scegliere i fan Scrivendo un titolo e una descrizione Allora Questi sono alcuni screenshot Che sono stati mostrati Come vedete ci sono vari personaggi anche del Galaxy Gandar e Serjugor Allora successivamente a questa parte C'è stata una nuova parte che non c'è mai stata finora negli Inazuma Walker Cioè The Best De Inazuma Best Eats Che ha visto l'arrivo di due ospiti speciali Cioè i membri di Pudge Cats Ovvero il gruppo che canta le nuove sigle delle serie Inazuma Eleven Inclusa appunto l'ending dell'Inazuma Walker Che potete vedere nella trasmissione Allora Qui ci sono le sigle che hanno condiviso Cioè le loro preferite E poi Per il prossimo episodio Che ci sarà ovviamente un'altra volta questa parte dei Inazuma Best Eats Per la prossima volta i fan sono stati invitati a votare per la loro sigla preferita Anzi le loro tre sigle preferite E bisogna votare entro il 15 giugno sul sito ufficiale Anch'io ho votato C'è da dire questo Ci sono andato e ho votato Quindi potete farlo anche voi Basta che sappiate Come sono queste Quali sono le ending o le opening E poi Cliccare su vota Tanto è un modulo di Google Quindi non c'è problema Allora Durante la terza parte I fan invece sono stati invitati a votare per il design Dei pinguini Della tecnica speciale Quindi questa cosa è veramente assurda Perché addirittura I fan hanno votato per i pinguini del pinguine imperatore E guardate qua Allora Questo è stato il primo design Questo è il secondo Questo è il terzo Che è anche il classico Se non sbaglio Quello che c'è sempre stato E questo è il quarto E ovviamente ha vinto il terzo Quindi non si cambia Anche io avrei votato per questo Perché gli altri sono anche inguardabili C'è da dire Però Diciamo Non abbiamo cambiato Non è stato cambiato Successivamente C'è stata la quarta parte Con Il solito commento Dell'episodio di Nazuma Eleven Di una serie qualsiasi Anzi Di solito della prima Sì della prima Con Un altro ospite speciale Cioè la doppiatrice di Byron Love Ovvero Afrodite Capitano della Zeus Sapete tutti chi è Sono sicuro Comunque Hanno visto l'episodio numero 26 Cioè la grande partita Ovviamente è la parte finale L'episodio finale Della prima serie di Nazuma Eleven Con lo scontro Raymond contro Zeus Allora Finalmente poi È stato mostrato Il nuovo Inazuma Eleven Outer Code Che avete già visto Sul mio canale Vi consiglio Di andarlo a vedere subito Perché entro qualche giorno Lo rimuoverò Causa copyright Allora Ecco Più o meno Quello che si è capito Da questo episodio Allora C'è ovviamente Byron Che riflette Vorrei ancora Devo capire bene Su che cosa Però se lo capisco Ve lo dico Anzi Aggiorno il post Qui sul Geniv Trovate il link Ovviamente In descrizione Di questa pagina Ovviamente C'è quella vecchia Misteriosa Che appare E parla con Byron Anche lì C'è da capire Chi è Perché appare Così dal nulla E poi come vedete Alla fine Scompare Senza che ovviamente Se ne accorge Byron E poi Kami Ovvero Dio Che c'entra qualcosa Ovviamente Con Byron Perché La Zeus È formata da Tra virgolette Dei Anche se Non è proprio così Però Dettagli È così E poi Ha mostrato Il look Il design Di Byron Love Durante le varie serie Come vedete Il primo Il secondo Nazuma Eleven 3 Nazuma Eleven Go E poi C'è quello di Nazuma Eleven Ares Che vedete qui E che avete anche visto Nell'Nazuma Eleven Outer Code E successivamente Hanno fatto vedere Come una parte extra Un altro gameplay Di Nazuma Eleven Every Day Più più Che uscirà A giugno 2017 In Giappone Per dispositivi Android e iOS Costerà 800 yen Che se non sbaglio È Qualche euro Non so di preciso Sì se non sbaglio Dovrebbe essere tipo Due euro Forse Circa Più o meno Sì dai E poi Come vedete Adesso il gameplay Lo potete vedere Cliccando su questo video Adesso Non lo Apro Per non rischiare In altri problemi Di copyright Anche su questo video E poi È stato annunciato Che durante Il prossimo episodio Di Nazuma Walker Faranno un regalo Speciale Agli spettatori Cioè Una registrazione Vocale Di un personaggio Ovviamente Doppiato Dal doppiato Originale Che si potrà usare Come sveglia O notifica Non so bene Se faranno Una Tipo una Suoneria Per chiamate O sveglie Oppure una notifica Per messaggio Adesso questo Ve lo vedremo E poi Hanno annunciato Finalmente Il prossimo episodio Di Nazuma Walker Volume 6 Che verrà trasmesso Il 30 giugno Alle 21 In Giappone Cioè le 15 In Italia Un'ora dopo Rispetto a questo qua Che è stato trasmesso Ieri Solo che c'è un problema Perché forse io Il 30 giugno Non potrò vederla Questa presentazione Quindi non so Se riuscirò a portarvi Subito al video Però ci sarà tempo Per spiegarvi Per Per sapere di preciso Perché forse Sarò già in vacanza Quella settimana lì Comunque vi farò sapere Più avanti C'è anche È stato anche detto Il tema del prossimo episodio Di Inazuma Eleven Outer Code Che è Case Table Table Adesso vedremo Chi è questo K Ok Perché ancora Anch'io devo capire bene Alcune cose Come avete capito Anche Dall'Inazuma Eleven Outer Code Che è stato già trasmesso Non ho capito bene Tutte le cose Però Vi farò sapere Ovviamente voi controllate Questa pagina Che vi lascio Il link in descrizione Per essere sicuri Che Diciamo Non Non ci sono altri dettagli Che ho appostato Comunque io Se scopro qualcosa Aggiorno questo post Quindi ogni tanto Controllate E qui ovviamente Trovate L'intera trasmissione Dell'Inazuma Walker Volume 5 Che è durata Se non sbaglio Anche qui Due ore Un'ora e 48 Va bene Ok Quindi Credo di aver detto tutto Ovviamente qua trovate Vari screenshot Che sono stati mostrati Quello dei pinguini Però è tanta roba Sti sondaggi qua Sembra proprio Che non hanno niente Da mostrare O da fare In queste trasmissioni Allora Ci mettono dentro Questi sondaggini qua Che alla fine Si è votato Appunto Per il solito Pinguino Quindi Era anche difficile Pensare che La maggioranza Dei fan Avessero votato Avrebbero votato Un altro Perché alla fine Si capisce Cioè meglio Meglio il terzo Anche se il solito Comunque vabbè Sono i gusti Dei giapponesi Anche se pure io Avrei preferito Quello là Qui ovviamente Trovate gli screenshot Delle varie sigle Che potete votare Anche voi Su sito ufficiale Devo ancora provare Quello del voto Il fatto di votare Per il tema Del prossimo episodio Però non so Se neanche se lo farò Vedrò Comunque Ho detto tutto Più o meno Questo è quello Che ho trovato Riguardo la trasmissione Quindi Leggetevela Se volete Se non avete Capito qualcosa Ovviamente Chiedetemi nei commenti Se avete qualche dubbio Ovviamente Se so la risposta Vi rispondo Se no O non vi rispondo Vi dico che non lo so Semplicemente Comunque State tranquilli Che leggo tutti i commenti Ci vediamo Allora Al prossimo video Anzi Prima i saluti Anzi Il saluto Che ho da fare Che è per Wolfram Un saluto E grazie per seguirmi Anzi Devo dire anche Che alcune persone Mi hanno Chiesto di salutarle Con nomi Impronunciabili O assurdi Quindi io ho evitato Se volete Essere salutati Un nome normale Non Uno impronunciabile O lunghissimo E ovviamente Leggete l'istruzione In descrizione Ci vediamo Al prossimo video Allora Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti